Proseguono i servizi predisposti dal questore di Messina e operati dalla Polizia di Stato a Messina e in tutta la provincia nei principali luoghi di aggregazione giovanile in fasce orarie serali e notturne. In un'ottica di supervisione della Movida per innalzare i livelli di sicurezza dei cittadini e al fine di garantire il rispetto della normativa vigente sono stati numerosi servizi straordinari di controllo del territorio svolti dal personale della questura di Messina a partire dall'inizio dell'anno con l'impiego di oltre 170 operatori della Polizia di Stato complessivamente impegnati sul territorio. Prezioso il contributo fornito dal personale specializzato della divisione Polizia Amministrativa della Questura che unitamente ad altro personale della Polizia di Stato con il coordinamento di un funzionario di polizia su strada ha effettuato mirati controlli presso gli esercizi commerciali maggiormente interessati dalla Movida. In particolare sono 18 i locali sottoposti a controllo nel periodo compreso tra il 7 gennaio e il 12 marzo 2023. Nell'ambito di tali attività di verifica in particolare si è proceduto alla denuncia di nove soggetti rispettivamente per violazione delle prescrizioni della licenza del questore disturbo del riposo delle persone ovvero per l'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Infatti è stata accertata in primis la regolarità di diverse attività dove erano in corso serate musicali o danzanti mentre in altri casi è stata constatata l'apertura abusiva di locali in cui si svolgeva attività di intrattenimento non autorizzata. In due esercizi invece sebbene in possesso di licenza è stata contestata la violazione alle prescrizioni imposte per il superamento dei limiti di capienza del locale e per le cattive condizioni igieniche dei servizi. Sanzionato amministrativamente il titolare di un locale per aver impiegato abusivamente un addetto al servizio di controllo sanzionato a sua volta in quanto sprovvisto di apposito decreto prefittizio. Sono stati numerosi gli interventi messi in atto con l'ausilio di personale dell'ARPA della protezione ambientale regione sicilia grazie ai quali è stato appurato attraverso specifici rilievi fonometrici il superamento dei limiti di emissione di rumore ambientale e il relativo impatto acustico. A margine della complessiva attività sono state contestate diverse sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 140 mila euro. Nel corso dei suddetti servizi in particolare sono state identificate in totale 467 persone e sottoposte a controllo 199 autovetture elevati 46 verbali per violazioni al codice della strada e sequestrati tre veicoli. Infine sono sei soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente e che sono dunque stati segnalati alla competente autorità amministrativa quali assuntori abituali.